Nel gran rito collettivo della difesa del proprio leader, da due giorni si sta consumando un'inaspettata empatia per l'accusato. Nonostante da molti anni abbiano provato a convincerci che solidarizzare con l'accusato sia una postura immorale, sospettosa, perfino colpevole, dicevano. Solo che questa volta il padre con cui solidarizzare è il simbolo di un partito politico e quindi molti si sentono in dovere di farlo. Come era già accaduto? Quando si dice politicizzare le vicende giudiziarie si intende proprio questo, qualcuno con un grande seguito che usa vicende penali e quindi che dovrebbero essere personali come paradigma di un clima politico. È la stessa cosa di Berlusconi che si dichiara perseguitato dalle toghe rosse, è la stessa cosa di Salvini che sta dicendo che la sinistra l'abbia mandato a processo nel caso Open Arms. Uguale, uguale, pensateci. Poi ci sono i soliti ingredienti che intossicano tutte le volte le presunte vittime di stupro. Un uomo potente, cioè con il potere di parlare a molti, che urlaccia e vittimizza la presunta vittima un'altra volta. Incredibile la discussione sulle ore che servono a denunciare a uno stupro, una bassezza da fallocati che uno si aspetterebbe di ascoltare al bar davanti allo sprizzo e invece ad essere su tutti i media nazionali. Beppe Grillo è riuscito a condensare in pochi minuti la cultura dello stupro. Un giudizio personale che vorrebbe valere come Cassazione, una discussione spostata sulle presunte colpe della presunta vittima e non dei presunti colpevoli e perfino quel, lo dico da padre, che ci ha fatto incazzare per mesi ogni volta, lo dicevamo, lo scrivevamo dappertutto quando lo diceva Salvini. Non solo, Grillo ha pubblicamente dato della bugiarda alla vittima. Come scrive giustamente Giulia Blasi per Valigia Blu, ogni volta che ci domandiamo come mai in Italia sia così difficile parlare di abusi sessuali, ricordiamoci questo, che il capo di un partito politico può tentare di mischiarsi nel procedimento giudiziario a carico di suo figlio e aggredire verbalmente la donna che lo accusa senza che ci siano conseguenze immediate, che il partito stesso se ne si dissocia e lo costringa a farsi da parte. Di mettersi sarebbe impossibile, data la natura liquida del ruolo di Grillo che rimane comunque un privato cittadino. La vita, la sicurezza e l'integrità fisica delle donne contano così poco di fronte alla necessità di mantenere il quieto vivere. Insomma, tutti pronti a mettersi nei panni del padre, della madre del presunto colpevole e nessun padre, nessuna madre della presunta vittima. Annusate l'aria che c'è in giro in questi giorni, in queste ultime ore e capirete, avete proprio una dimostrazione plastica del perché per una donna sia così difficile denunciare una violenza. È stato un gesto pessimo, sconclusionato e al Movimento 5 Stelle conviene dirlo forte, chiaro, subito per non rimanere invischiato. A meno che, a meno che non si voglia votare in Parlamento che quella fosse la figlia di Mubarak. Che se ci pensate ci sarebbero anche i numeri per farlo. Buon mercoledì.